Sicuramente abbiamo vinto con merito, però sapevamo anche che loro sono fastidiosi davanti, ci hanno giocatori di qualità e ci hanno messo in difficoltà tante volte, però anche oggi abbiamo saputo soffrire e penso che l'abbiamo fatto la grande da squadra e poi abbiamo trovato i gol nel primo tempo che ci ha dato un po' di tranquillità. È stata dura dopo un mezzo e mezzo, quasi due, di infortuni, entrare e ancora farmi male, è stato un po' un periodo buio per me, non potrei aiutare al 100% e adesso sto trovando le gambe, sto trovando ancora le buone sensazioni che mi piace avere per aiutare al 100% ai miei compagni. All'inizio dell'anno magari non ci vedevamo in questa situazione qua, ma ogni giorno abbiamo lavorato per questo e adesso il lavoro ci sta pagando con delle vittorie, delle satisfazioni, che non è che è iniziato adesso da 20 partite, non lo so, è iniziato da 11, da quando abbiamo iniziato a correre tutti insieme come una famiglia. All'inizio dell'anno